Ancora un colpo alle casse di Matteo Messina, denaro, sequestrati i beni per un valore di 13 milioni di euro. Siglata oggi a Palermo la nuova convenzione tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia. Al via la rete è Inclusion, un nuovo network di servizi e assistenza al cittadino che riguarda il distretto sociosanitario 39. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di venerdì 4 dicembre. Ancora un colpo alle casse di Matteo Messina, denaro, sequestrati i beni per un valore di 13 milioni di euro a boss fiancheggiatori del boss latitante. Vediamo. Polizie di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sequestrato 13 milioni a boss fiancheggiatori, fedelissimi del superlatitante Matteo Messina, denaro. Si tratta dell'esecuzione di un provvedimento richiesto dal procuratore aggiunto Teresa Principato e dai sostituti Paolo Guido e Carlo Marzella della DDA di Palermo ed emesso dal GIP Maria Pino che colpisce i patrimoni del boss di Mazzara del Vallo e di Salemi, rispettivamente Vito Gondola, allevatore di 77 anni e Michele Gucciardi, 62 anni, imprenditore agricolo. Di Giovanni Domenico Scimonelli, imprenditore di 48 anni, ritenuto un anello cruciale degli interessi di Messina Denaro, uomo di collegamento con ambienti economici siciliani e nazionali, affiliato alla cosca mafiosa di Partanna. E di Pietro Giambalvo, allevatore 77enne del clan di Santa Ninfa. I quattro sono detenuti dal 3 agosto a seguito dell'operazione Hermes per associazione a delinquere di stampo mafioso e favoreggiamento aggravato dalla modalità mafiosa per aver agevolato la latitanza del capo mafia di Castelvetrano. Accolte le risultanze delle indagini di natura patrimoniale condotte dagli investigatori del servizio centrale operativo e delle squadre mobili di Palermo e Trapani, del Gico della Guardia di Finanza di Palermo e del Rosso dei Carabinieri di Palermo. Il sequestro riguarda beni mobili, immobili, aziende a Mazzara del Vallo, Castelvetrano, Salemi, Partanna, Santa Ninfa e Trapani. Maxi sequestro di droga a largo di Pantelleria, fermata una nave con oltre 13 tonnellate di hashish. La Guardia di Finanza ha sequestrato 13 tonnellate di hashish ritrovate a bordo della motonave Munzur di circa 80 metri battente bandiena Panamense. La nave, che era già controllata da un aereo ATR-42 del comando operativo aeronavale, è stata abbordata a circa 10 mili a nord-est dall'isola di Pantelleria, dai team di due pattugliatori d'altura. Il dispositivo della Guardia di Finanza è inserito nell'ambito della noto operazione internazionale Frontex Triton 2015. I finanzieri, saliti a bordo ed effettuato il controllo, hanno rinvenuto hashish suddivisa in 500 colli. A bordo si trovavano 11 uomini di equipaggio, tutti di origine ucraina e tutti fermati. La nave è stata portata poi al porto di Palermo. L'operazione è stata denominata Libecio International ed è stata eseguita dal GICO del Nucleo di Polizia Tributare di Palermo sotto la direzione della DDA. Complessivamente, tra il gennaio 2014 ed oggi, la collaborazione tra la componente aeronavale della Guardia di Finanza e il Nucleo di Polizia Tributare di Palermo ha permesso di sequestrare 120 tonnellate di droga trasportati su pescherecci o navi individuate grazie alla collaborazione internazionale della Polizia. Valentina Pilato, la mamma palermitana accusata di avere gettato la figlia appena nata in un cassonetto dell'immondizia, era capace di intendere di volere. Questo è il parere dei periti dell'accusa. Valentina Pilato, la mamma palermitana accusata di avere gettato la figlia appena nata in un cassonetto dell'immondizia, aveva un disturbo di adattamento dovuto al trasferimento in Friuli, che però non ne avrebbe compromesso la lucidità e la capacità di autodeterminazione. Questo è il parere dei periti dell'accusa, che hanno deposto davanti alla Corte d'Assise, che sta processando la giovane per omicidio volontario premeditato. Secondo loro era capace di intendere e volere al momento del fatto che avvenne il 24 novembre del 2014. Gli psichiatri hanno riferito inoltre il racconto della donna, che ha sostenuto di non sapere, al momento del parto, di essere giunta già al nono mese di gravidanza. Credeva di essere al settimo, hanno spiegato, quindi non pensava di essere in procinto di partorire. Avrebbe nascosto la gravidanza al marito perché sapeva che non sarebbe stata accettata dal consorte e sperava che la situazione cambiasse prima di informarlo del figlio in arrivo. La donna ha sempre detto di averlo fatto perché credeva che la neonata fosse morta, anche se uno degli altri figli presenti in casa al momento del parto avrebbe riferito di aver sentito i primi vagiti della neonata. Intanto non è ancora stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione che ad inizio ottobre aveva annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere per la donna. Secondo i giudici romani, il carcere a distanza di cinque mesi dal terribile gesto non sarebbe la misura adeguata. Il caso adesso passa ad un'altra sezione del Tribunale del Riesame che dovrà decidere sulla richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato della donna. La Sicilia avrebbe diritto al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ma grazie all'accordo tra i governi regionale e nazionale non vedrà un euro. Ascoltiamo Gaetano Armao, leader di Sicilia Nazione. La regione avrebbe pur diritto al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ma siccome c'è un accordo che la regione ha concluso con lo Stato e che Crocetta ha firmato col ministro Paduan in base a questo accordo i siciliani che verseranno somme in più all'agenzia delle entrate in osseguo a alcune verifiche di tipo fiscale queste somme non affluiranno mai alla Sicilia perché a me sono concesso che vengano versate all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate dirà alla regione guarda c'è un accordo e quindi i soldi non te li ho. Che cosa si prospetta per il futuro della Sicilia? Altri due anni della gestione della Crocetta non possono che immaginarsi più devastanti di quelli che sono stati i primi tre. Avere rinunciato a circa 5 miliardi di euro di risorse come dicevamo prima è un effetto disastroso sulle finanze che vediamo tutti vediamo tutti lo Stato agli enti locali messi alla fame vediamo lo Stato alle strade le mancate opere di contenimento del rischio idrogeologico tutto questo non è altro che frutto di minori risorse disponibili e dovute a delle responsabilità ben chiare. Io sono veramente preoccupato come siamo anche in tanti di questa sorta di accordo sotterraneo che c'è in assemblea tra forze di maggioranza, forze di opposizione, grellini compresi e tutti gridano andiamo a casa, andiamo a casa ma poi c'è qualcuno che ogni tanto dice troviamo un notaio cioè come se fosse difficile trovare un notaio per dimettersi la verità è che questi 90 signori vogliono tutti restare dove sono fino all'ultimo dei giorni consentiti dalla legislatura e da parte loro mi pare una legittima pretesa ma perlomeno facciano bene il loro lavoro per il quale sono stati chiamati i siciliani con l'elezione. Siglata oggi a Palermo la nuova convenzione tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni a Gcom e il comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia Corecom con la firma della nuova convenzione il Corecom Sicilia assumerà anche le cosiddette deleghe di seconda fase le interviste. Con le firme di oggi si afferma un'importante novità per il Corecom Sicilia cioè un'espansione delle deleghe esistenti che di fatto ripristina una differenziazione che c'è stata fino ad oggi tra la Sicilia e le altre regioni e quindi a pieno titolo la Sicilia potrà esercitare nuove funzioni funzioni che si espandono perché passano da una tutela diciamo tipicamente rivolta soltanto al consumatore ad un'azione di tutela all'utente in senso generale che si espande dalle tipiche competenze che riguardano le controversie anche con operatori telefonici alla tutela del pluralismo nei media e nella televisione anche locale quindi diciamo una protezione a tutto tondo che serve a rilanciare anche il digitale in Sicilia con questo nuovo accordo speriamo di dare un ulteriore impulso alle attività del Corecom Siciliano e anche uno sviluppo dei mercati locali Noi abbiamo già chiesto alla regione siciliana di poterci mettere a disposizione un paio di stanze presso la sede della regione siciliana a Catania perché obiettivamente per i cittadini della Sicilia orientale è abbastanza complicato venire qui a Palermo per effettuare una conciliazione un servizio gratuito molto importante che consente agli utenti di poter dirimere una controversia con un operatore telefonico che molto spesso non viene effettuato da coloro che devono raggiungere Palermo da una provincia abbastanza lontana quindi con l'apertura spero nel 2016 di una sede a Catania io penso che agevoleremo i cittadini della Sicilia orientale per questo fine con questa convenzione noi l'anno prossimo incomincieremo a fare un altro servizio per i cittadini e cioè la definizione della controversia oggi chiunque di voi vuole venire al Corecom può conciliare con l'operatore telefonico quindi noi ci limitiamo semplicemente a mettere insieme le parti se invece le parti non riescono a mettersi d'accordo dal 2016 dopo tre mesi dal tentativo negativo di conciliazione possono ritornare da noi e noi a quel punto definiremo la controversia cioè noi entriamo nel merito della controversia decideremo noi chi avrà ragione e chi avrà torto Gli studenti palermitani si stanno nuovamente mobilitando ponendo l'accento della loro battaglia sulla carenza di strutture di garanzie per chi richiede un alloggio non può beneficiarne a causa dei nuovi parametri del calcolo ISEE vediamo No al nuovo calcolo dell'ISEE che considera ricchi praticamente tutti gli studenti siciliani a causa di un incremento esponenziale della tasse universitaria gli studenti siciliani chiamano in causa l'ente regionale per il diritto allo studio chiedendo garanzie considerati gli ulteriori tagli della regione agli etenei siciliani in merito al fatto che a fronte di questo attacco all'università non venga aumentata la tassa per il diritto allo studio è proprio il diritto allo studio ad essere messo in discussione dalle riforme di questo governo che continua a tagliare su settori come la cultura e l'istruzione e a chiedere sacrifici alle fasce sociali più deboli dicono gli studenti i criteri del nuovo calcolo ISEE hanno di fatto escluso centinaia e centinaia di studenti bisognosi dall'assegnazione di borse di studio all'oggi rendendo per molti difficile o impossibile continuare il percorso di studi quello che accade è che l'università diventa sempre più un privilegio per pochi eletti e il diritto allo studio è sempre più un miraggio gli studenti non sono disposti a rinunciare ai loro diritti e chiedono quindi garanzie concrete agli enti di competenza che non possono più permettersi di ignorare le loro esigenze per questo gli studenti hanno scelto di tornare all'azione per pretendere che l'ERSU tuteli gli studenti e il loro diritto allo studio Al via la rete è Inclusion un nuovo network di servizi e tecnologie pensati per sostenere i cittadini e assicurare a coloro che si trovano in situazioni di disagio l'aiuto, i servizi di assistenza e gli strumenti di cui hanno bisogno la rete Inclusion ha lo scopo di integrare ed estendere i servizi offerti dal distretto sociosanitario 39 dei comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Casteldaccia e Santa Flavia vediamo noi siamo stati tra i fortunati fruitori di questo grandioso servizio che purtroppo i ritardi della regione hanno portato a farlo svolgere nell'ultima parte del percorso perché fatto in un anno intero quello che era previsto a durata del progetto sarebbe stato per un'altra cosa cioè nonostante lascerà qui una buona impronta perché stiamo parlando di servizi rivolti a persone bisognose fragilità sociali, disabili che potranno collegarsi o interagire con esperti sociosanitari sulle loro problematiche oltre che di inserimento sociale anche di aggregazione perché ci sono degli spazi interattivi dove i ragazzi o chiunque i fruitori di questo servizio potranno anche incontrarsi e parlare un nuovo metodo di organizzazione sociale e di sviluppo delle capacità di queste persone che hanno notevole bisogno di auto e che spesso vengono lasciate a loro stessi è un progetto importante perché ci permette di poter garantire tutta una serie di servizi in favore appunto della comunità dei soggetti disabili presenti non solo nel comune di Bagheria ma anche nel distretto sarà allestito nel nostro palazzo Busetta nella sede dell'assessorato è già stato allestito una stanza dove appunto ci sarà possibile accedere a questi servizi il nostro comune sarà direttamente interessato in quanto saranno i nostri dipendenti comunali che hanno fatto in questi giorni anche stanno facendo una formazione appunto per gestire i servizi quindi oltre a gestire questo laboratorio che sarà presente a Palazzo Busetta ci sarà la possibilità anche di offrire dei servizi per esempio per portare farmaci la richiesta di farmaci a domicilio l'idea è quella di creare una sorta di virrete in cui la tecnologia l'organizzazione dei servizi è un sistema diciamo proiettato verso l'innovazione diciamo utilizza le risorse ormai riteniamo ormai tutte abbastanza indispensabili tecnologici insomma quindi l'accesso a internet la possibilità diciamo di remotizzare alcuni servizi Insolito ritrovamento sulla spiegia di San Cataldo a Terrasini un'enorme carcassa di balena spiaggiata Insolito ritrovamento sulla spiegia di San Cataldo a Terrasini come vedete nelle immagini si tratta di un'enorme carcassa di balena l'animale lungo circa 15 metri era già in avanzato stato di decomposizione si tratta di un evento che conferma la presenza di cetacei nelle acque che circondano la Sicilia la balena è stata recuperata dagli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Terrasini la carcassa è stata trascinata dalle acque della scogliera di Contrada Paternella fino alla spiaggia di San Cataldo dove poi è intervenuto il personale dell'istituto zooprofilattico per accertare le cause del decesso al momento si pensa che il cetaceo possa essere stato speronato da un'imbarcazione o che abbia ingerito qualcosa di letale non è chiaro però come si è finito nel mare di Terrasini il comandante Stefano Lamanna aveva emanato un avviso ai naviganti perché la balena rappresentava un pericolo per la sicurezza in mare dopo le analisi dell'istituto zooprofilattico si deciderà come rimuovere la carcassa sul posto anche gli agenti della polizia municipale torna in piazza la solidarietà con l'AIL l'associazione italiana contro le leucemie l'infomia e il mieloma porta anche quest'anno ad ogni malato la sua buona stella grazie all'impegno di migliaia di volontari in 4.000 piazze italiane oltre 800.000 stelle di Natale saranno distribuite nei giorni a partire da domani e fino all'8 dicembre con un contributo minimo associativo di 12 euro a Palermo stand aperti dalle 9 alle 20 in via Maiocco via Notarbartolo piazza Croci piazza Verdi piazza Unità d'Italia corso Calata Fimi e viale Strasburgo e poi anche davanti ai centri commerciali Poseidon con Cadoro e Olimpo e il 6 e l'8 dicembre davanti anche a tantissime chiese in occasione delle giornate festive a Villa Abate un casting per piccoli talenti vediamo noi ci occupiamo di casting soprattutto di bambini dove cerchiamo talenti per portarlo nel mondo sia televisivo ma nel mondo dello spettacolo dico sempre che questo modo di fare dei genitori verso i bambini deve essere un gioco deve essere un divertimento e non un obbligo a farli partecipare perché il bambino deve essere portato a fare determinate discipline noi cerchiamo tanti tipi di discipline cerchiamo il canto il ballo la recitazione la postura le pose per le foto e quant'altro qui oggi dobbiamo dire che abbiamo trovato molti molti bambini che hanno già un talento veramente bravi e sono anche meravigliato no Cinzia tu che dici? onestamente non ci aspettavamo tutta questa questo come si può dire infatti questa bella affluenza volevamo ringraziare io e Giuseppe Messina che ci ha permesso di stare qui oggi quindi l'amministrazione comunale e chi si è interessato ovviamente per far sì che questo si realizzasse il signore del Lombardo e poi Centorbi è stupenda ha sfilato ed è una ragazzina molto già portata per fare questo con questo è tutto grazie per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni grazie per la visione